Herman S. diceva che è facile innamorarsi, ma è difficile amare veramente. Ecco, quattro differenze tra innamoramento e amore. Ciao, sono Michele Vezzanotte, sono uno psicoterapeuta e sono qui su YouTube perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Uscendo fuori dalla stanza d'analisi incontra tutte le persone con gli occhi a cuoricino, piccoli, innamorate, col cuore che batte forte. Comunque, innamoramento e amore sono due dinamiche totalmente diverse, quasi non sovrapponibili, che si susseguono, all'inizio c'è una fase di innamoramento, che secondo la scienza, quella scientifica, non sbaglia mai, dura al massimo un annetto, ma se tutto va bene, dai sei mesi a un anno, diciamo così, e poi subentra la fase dell'amore, ovvero di una relazione più costruita, più matura, più lenta, più farraginosa, più faticosa. Quindi quali sono le differenze tra innamoramento e amore? Perché poi ci capita di dire ti amo in fase di innamoramento, oppure sono innamorato di te in fase d'amore. E lì accadono fraintendimenti, accade quasi l'irreparabile, perché io dico ti amo a una persona di cui sono innamorata, gli sto promettendo qualcosa che non posso promettere, perché magari sono semplicemente innamorato, e una volta finita la fase di innamoramento non so se noi continueremo a stare insieme oppure no. Come se ci volesse una sorta di anno di prova, no? Ok, stiamo un anno insieme, viviamoci questo innamoramento e vediamo se scema e quando scema cosa succede. Se abbiamo fatto un lavoro giusto durante la fase di innamoramento oppure no. Perché poi quando subentra l'amore, quando entra in gioco l'amore, lì a validità soltanto se io nella fase di innamoramento ho lavorato bene. Se mi sono legato bene con l'altro, se ho conosciuto le sue ombre, se ho fatto conoscere le mie. Perché se l'innamoramento è una fase farsa, se io mi vivo solo il bello, quando arriverà l'amore la relazione si romperà, andrà in frantumi, in mille pezzi, non rimarrà più nulla della relazione perché non ci sono delle basi solide. Quindi diciamo che la prima fase è tutta una fase di costruzione basata su emozioni. Adesso vediamo le differenze. Complesso di emozioni, complesso di sentimenti. L'innamoramento è un complesso di emozioni, l'amore è un complesso di sentimenti. Che differenza c'è? Le emozioni sono quel movimento dell'anima, della psiche, dal latino è muovere, proprio smuovere, repentine. Secondo le neuroscienze le emozioni sono repentine, sono veloci e durano poco. Tutto ciò che è veloce, repentino e dura poco, che ci prende, fa quello del cazzo che gli pare, se ne va e non possiamo controllare, sono emozioni. I sentimenti invece sono quegli stati d'animo emotivi molto più lunghi e lenti. E quindi in questo senso l'innamoramento è un'emozione veloce, repentina, è istantanea, è fortissima, è inarrestabile. Mentre l'amore è un sentimento, ovvero è qualcosa di lento, inesorabile, ma lento, duraturo nel tempo. Le emozioni durano poco, l'amore dura tanto. E già questa è una differenza. Perché ho detto che sono un complesso di emozioni e un complesso di sentimenti? Perché la parola complesso dal punto di vista della psicologia analitica jungiana è tutta una serie di emozioni o sentimenti messi insieme che si relazionano tra di loro e soprattutto si relazionano tra me e il mondo, tra me e l'altro, in questo caso, della relazione o degli altri che partecipano indirettamente alla relazione, tipo familiari, amici, sorelle, fratelli, eccetera, figli. Quindi il complesso di emozioni perché ovviamente l'innamoramento non è un'emozione sola, sono tante emozioni mie, dell'altro e degli altri, messe insieme. Amore è stessa cosa, è un complesso di sentimenti miei, tuoi, degli altri, messi insieme. Questo complesso poi va a essere magari costruttivo, distruttivo, tossico o sano, che dir si voglia, ma comunque bene tenere in mente che l'innamoramento e l'amore hanno questa differenziazione. Rottura e costruzione. L'innamoramento è un processo di rottura, di distruzione, mentre l'amore è un processo di costruzione e sono due movimenti dell'anima totalmente diversi, totalmente separati, opposti agli antipodi. Infatti Carotenuto, Aldo Carotenuto, uno dei più grandi psicoanalisti italiani, affermava che l'innamoramento è un processo di rottura del nucleo narcisistico dell'io, ovvero tutti noi quando stiamo soli, single, abbiamo il nostro bel nucleo narcisistico che sta lì, bello pasciuto, tranquillo, stiamo nella nostra comfort zone, nessuno si rompe il cazzo. Quando ci innamoriamo, quel nucleo va in frantumi, o ci concediamo di innamorarci quando spacchiamo quel nucleo. E quando lo spacchiamo, l'altro può entrare, solo in quel momento, e ci innamoriamo. Innamoramento significa rompere se stessi, e quindi darsi una possibilità, un'apertura. Rompere l'altro significa rischiare tutto, significa trasformare totalmente la relazione. Infatti l'innamoramento è l'energia più grande che si possa avere per trasformarsi, per cambiare. Il momento dell'innamoramento, quell'anno di innamoramento, sono sempre gli anni in cui compiamo i nostri più grandi cambiamenti interiori. Sia che ci innamoriamo di qualcuno, sia che ci innamoriamo di noi stessi. Perché quella è un'energia inarrestabile, a cui non possiamo dire nulla, troppo forte per non spaccare. Possiamo evitarla, possiamo negarla, possiamo resisterla, ma se la viviamo a pieno, è un'opportunità grandissima per la nostra vita, per rimetterci in gioco, per cambiare l'incambiabile, per sovvertire l'ordine delle cose. Mentre l'amore è costruzione. L'innamoramento è così, bam, un'energia, bam, ti prende, si spazza via, ti porta. L'innamoramento invece è costruzione. Tutto quello che ho rotto, che ho spaccato nella fase di innamoramento, arriva alla fase dell'amore e devo costruire. Devo ricostruire me, nel senso buono, perché ci si può anche spaccare nel senso buono del termine, non per forza nel senso cattivo. Devo ricostruire me, devo costruire una relazione, devo ricostruire l'altro, devo ricostruire un contesto che magari ho rotto totalmente, ho cambiato vita, ho cambiato lavoro, ho cambiato il luogo dove vivevo, ho cambiato le dinamiche amicali, le dinamiche della mia vita quotidiana e quindi una volta che le ho finiti di frammentare, devo man mano ricostruirle. E spesso in questo il processo di innamoramento e di amore si fondono gradualmente insieme, non è che c'è un momento, bam, ok, non sono più innamorato, oh, adesso provo amore, oh, adesso distruggo, oh, adesso ricostruisco. No, sono fuse insieme, gradualmente si spegne il processo di distruzione e riemerge il processo di costruzione. Ecco anche perché in coppie molto navigate a un certo punto si dice, ok, ma amore, 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 ma perché non riesce a cambiare? Perché ormai è finita la fase di innamoramento, non si può più pretendere il cambiamento dell'altro, soprattutto dopo il primo anno di relazione. Tra l'altro nella fase di amore è anche molto presente la dinamica del sacrificio. Sacrificio, parola stupenda, che però può essere molto pericolosa perché il sacrificio è quel rendere sacro etimologicamente. Quindi io posso rendere sacro me e l'altro attraverso una mia rinuncia oppure posso totalmente distruggermi. E questo avviene solo nell'amore e non nell'innamoramento. Falling in love, bellissimo modo di dire in inglese, cadere nell'amore, precipitare nell'amore. Ed è proprio questa la differenza anche tra innamoramento e amore, ovvero l'innamoramento è un precipitare, un cadere, un lasciarsi andare, un lanciarsi nel vuoto. E quando arrivo giù troverò l'amore. Sarà uno schianto deflagrante. Una specie di sberla in faccia. Una specie di entrare nel mondo della verità, del vero amore, quindi della fatica, della rinuncia, della costruzione. E se questa caduta è stata costruttiva, e se sono cadute insieme alla persona giusta, quando ci sfragliamo per terra, ci sfragiamo per terra, ci distruggiamo, sarà bello vivere insieme quel momento. Perché amore è giù, nelle profondità. E se io sono sceso giù insieme all'altro durante la fase di innamoramento, trovo l'amore. Se no, no, se sono rimasto sulla superficie, col cazzo che trovo l'amore. L'amore lo trovo solo se scendo giù, se precipito, se mi lascio andare, se ho fiducia, se prendo per la mano l'altro, se faccio conoscere le mie ombre, se conosco le ombre dell'altro, se lavoriamo l'uno per l'altro, e quando scendiamo nella parte più profonda della nostra anima, lì c'è la possibilità di amare, non prima. Energie e fatica. L'innamoramento dona energie, l'amore toglie energie, le trasforma. L'innamoramento basicamente ci dona un prime, un impulso, un boost di energie che non solo travolge noi, ma travolge tutto quello che abbiamo intorno. noi siamo quasi in grado di fare tutto, come diceva James Hillman in sua bellissima citazione, l'innamoramento è follia, e la follia ci fa compiere atti folli, atti impensabili, atti che non credevamo noi fossimo in grado di fare, ma è quello. L'amore invece è fatica, ci toglie energia, ma è un'energia che togliendo, ce la viene investita in qualcosa di più, qualcosa di più duraturo, una base solida, una casa, no? Metaforicamente. L'energia con la quale costruisco una casa. Quindi è un'energia sacrificata e trasformata che si riproduce nel corso della relazione. E se in fase di innamoramento questa energia che va diventa distruttiva, la relazione diventa tossica, se in fase d'amore questa energia non si riproduce oppure non entra in circolo in modo giusto, diventa tossica la relazione. Queste sono le differenze tra innamoramento e amore. Se ti è piaciuto il video, se sei innamorato o provi amore, metti un like, iscriviti al canale, aggiunghi, condividi il video con chi ti pare, accede il campanino, notifica per non perdere il prossimo video. Ciao! Ragazzi, ragazzi, che vi devo dire? Tante novità. Ve l'ho già parlato. Il libro frammenti di un'anima, graphic novel, tra l'altro, sta andando molto bene, mi fa molto piacere. Ci sono già molte le recensioni positive. Un libro, in sintesi, che fa piangere. Se volete commuovervi, prendete sto libro. Fumettoso. Una storia psicologica di rinascita.